Nei piani di lavoro di Pinomodica la pratica operativa delle ferrenamerie, delle ufficine meccaniche delle vetrerie e tradotta in composizioni formali dei light box, in opere di sapore fantasmico e quasi cosmico. I segni lasciati dagli operai sono retroilluminati dall'artista e appesi come quadri, nuove forme espressive inconsapevoli. A questi lavori è stata associata l'importante combustione di Alberto Burri in cui il fuoco diventa l'elemento di purificazione, un simbolo alchemico per eccellenza e le superfici vibratili dell'arte ottica di Alberto Biasi e la sapienza costruttiva, la vibratilità dell'alluminio di Getulio Alviani, maestri dell'arte programmata degli anni sfruttati.